Oggi è martedì, 12 settembre, ci troviamo al campo sportivo delle vittorie di Casseffrentano, il primo allenamento che fanno i ragazzi su questo terreno di gioco in terra, riscaldamento agli ordini di mister Gabriele, coordinatore anche dei mister, i nostri allievi stanno facendo una scampatura di riscaldamento, là in Ponto invece c'è il gruppo dei giovanissimi di mister Giovanni Di Giulio, mister Gabriele in Ponto sta preparando l'attrezzatura per gli esercizi, è una bella giornata anche se c'è qualche nuvola, fa caldo, qua abbiamo Karan ieri reduce da 35 giri di campo per scommessa, ma bisogna dire che lo ha fatto tutti e 35 senza fiatare, mister Gabriele sta preparando gli attrezzi, c'è Karan, bentornato a Gabriele e Donofrio, abbiamo Karan, Gabriele, Enrico, Lele, Michele, Teidi, Lorenzo Pitbull, è tornato anche Renzetto, Guido, Bartolo, Michele, Marcello, Alessandro, Riccardo Delbello, suo fratello Andrea, Matteo d'Ottario e in ultimo Ceroli, Alessio, esercizio di equilibrio, facciamo andare con gli esercizi, per come la vedo io, sciolti, 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 andiamo giù con la schiena ecco le mani, gambe tese, schiena e mani per terra, palmo della mano, andiamo giù, occhio a me gli occhi, a me gli occhi, tiriamo queste spalle così, facciamo tirare, su, andiamo su piano piano, bello le gambe tirate, andiamo a sinistra, su, un po' dritto, Michele, fa un buon esercizio, Michele, che ti massacra, quello è a destra, gioca una mossa la mia data, dritti, andiamo a destra, sempre in colpo dritto, ci deve tirare, ci deve tirare sotto la spalla, tu, così, buona, questa è la collina e prevedo che prima degli allenamenti, prima che finiscono gli allenamenti, sicuramente mister Gabriele farà fare qualche salitella ai suoi ragazzi, la collina dell'onore, non del disonore come quel film di guerra, a questo lato abbiamo il gruppo dei giovanissimi di mister Giovanni Di Giulio, Alex Mammarella, c'è il nostro Enrico, il nostro Nicolò, Simone, Emanuele, del bello Tinella, il piccolino Tenaglia, Di Fresco, Enrico, Manuele, Luca Rulli, Alessandro Ramundi e abbiamo tutti, tutti presenti, due, quattro, adesso faranno la collina come prevedo, cominceranno loro, si accingono a fare la corsa in collina, così prendono fiato, si robustiscono pure le gambe, si si, no dopo girate e riscendete come l'altra volta, come l'altra volta, andiamo a fare un sopralluogo quando il vostro compagno arriva all'altra volta, partite, si si, mister già mi stavano a fregare, c'è stavano facendo metà, arrivano sopra e riscendono per le scalette là, rischio io il primo, poi partite uno dietro l'altro, ammazza che fiacca, ecco il primo è Nicolò, Nicolò D'Angelo, il primo, il secondo è Ramundi, Alessandro, di fresco, abbiamo Emanuele, Alex, Luca, Enrico, Tenaglia, Simone, Dinella e ultimo, Emanuele, attente Emanuele, ok piano piano, recuperate piano, fischio io, Nico, secondo giro, seconda corsa, sempre Nicolò, fino alla fine, ecco sempre Alessandro Ramundi, Gifresco, Emanuele, Alex, Luca, Enrico, abbiamo anche Tenaglia, Simone, fino alla fine Simo, fino alla fine, bravo, Emanuele, arriva pure Emanuele, arriva anche Dinella, bravo Dinella. Com'è fa il nome dei batti?